Ciao creatura, io sono Ecati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Cosai, A-S-M-A, questa sera finché mi vedrai costruire, costruire tra virgolette, questo albero di Natale, ti leggo dei racconti di Natale brevi, per esempio la leggenda dell'albero di Natale mi sembra azzeccata per questo video, è una leggenda natalizia tedesca, c'era una volta un boscaiolo che era sposato con una giovane donna che amava molto, siccome l'amava molto ci teneva che lei avesse cose buone da mangiare e una casa sempre calda e quindi passava molto tempo nei boschi a tagliare la legna, un po' per rivenderla e un po' per scaldare la sua casa che aveva un bel cammino di pietra. La sera di Natale stava tornando a casa tardi come al solito e vide, alzando lo sguardo, un bellissimo abete alto e maestoso. Stava prendendo le misure per vedere se poteva tagliarlo, quando si accorse che tra i suoi rami, nella notte che era buia, che più buia non si può, riusciva a scorgere le stelle e che la luce di queste sembrava brillare proprio dai rami. Affascinato da questo spettacolo, decise in quel momento due cose. La prima era che avrebbe lasciato il vecchio abete lì dove stava e la seconda che doveva far vedere alla moglie questo bellissimo spettacolo. Tagliò allora un abete più piccolo, lo portò davanti alla casa e lì accese delle piccole candele che mise sui rami. La moglie del boscaiolo dalla finestra vide l'albero così illuminato e se ne innamorò al punto da lasciar bruciare l'arrosto. Da quel momento in poi la bella moglie del boscaiolo volle sempre avere un abete illuminato per Natale. I vicini, trovandolo bellissimo, imitarono presto il boscaiolo. Quest'uso poi si estese e l'albero di Natale divenne uno dei simboli del Natale. Papuska, leggenda di Natale russa. Anche in Russia c'è una pefana o una donna del Natale, come la chiamano i bambini. C'era una volta una signora che si chiamava Papuska, sicuramente l'ho pronunciata male, che era una grande massaia e aveva la casa più bella e pulita del circondario. Passava il suo tempo a strofinare, pulire, spolverare qualsiasi cosa e quando non puliva e spolverava cucinava pietanze deliziose in grande quantità. La verità però era che Papuska era così presa da tutte le sue faccende domestiche perché cercava di non pensare a un grande dolore. Aveva perso infatti da poco il suo unico figlio piccolo e la cosa la rendeva così triste, ma così triste, che non si può dire quanto. Vi dico solo che aveva messo in un cesto tutti i regali del suo bambino e non aveva voluto vederli più, tant'è che era l'unica cosa piena di polvere in quella casa. Una notte, mentre lei, come al solito, puliva e puliva, venne a rapussare alla porta alcuni pastoli infrettoliti. Papuska era una brava persona e quando questi le chiesero un tetto sopra la testa e qualcosa da mangiare, lei aprì la porta e le aiutò in tutto quello che poteva, chiedendo contemporaneamente, ma che ci fate fuori con questo freddo terribile? Siete matti? I pastori le risposero che stavano seguendo una stella, una stella che indicava il luogo in cui era nato un bambino molto speciale, re del cielo e della terra, e che se voleva sarebbe potuto andare con loro. Papuska rispose di sì, ma in realtà era un po' dubbiosa. Un altro bambino? E se vederlo avesse risvegliato in lei quel dolore che cercava di soppire? Passò quindi un giorno a pulire tutta la casa di nuovo. Passarono altri pastori che la invitarono a unirsi a loro e lei continuò a rispondere che li avrebbe seguiti, ma poi trascorreva un altro giorno a pulire la casa e non partiva mai. Finalmente al terzo giorno decise di portare un regalo a questo bambino. Andò al cesto dei giocattoli, li puli tutti e partì alla volta della stalla. Troppo tardi, quando arrivò infatti Maria e Giuseppe se ne erano andati e Papuska, che era a carica di giocattoli, rimase lì un attimo indeciso sul da farsi, finché non ebbe un'idea. Avrebbe continuato a cercare questo bambino divino e ogni bambino che avesse incontrato sulla sua strada avrebbe lasciato un giocattolo così, tanto per non sbagliare. Spero che questo video, un po' diverso dal solito, ti abbia fatto rilassare. Io ti auguro buonanotte, buon relax, buon Natale. Ciao creatura!